Sai che Guru Brand l'ho lanciato io con il mio amico Matteo Campi? Guru quello... Ah, quello andava a un botto, ce l'avevano tutti? Mi hanno fatto milioni e milioni e milioni E com'è andata la storia? Ma non c'era Bobo di Eri dietro? No, è fallito, di colpo è passato da 5 milioni a 400 milioni Lui aveva un emolumento amministratore di 2 milioni e mezzo di euro al mese Ne spendeva 4 e poi l'azienda è saltata, lui ha fatto 4-5 anni di galera Oggi è un uomo da 1500 euro al mese